Le regioni contro il governo. Continua la trattativa serrata tra ministri e governatori. Quest'ultimi, guidati dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, chiedono linee guida nette e che non lasciano spazio a fraintendimenti. A poco più di due settimane dall'ufficiale riapertura delle scuole, il 14 settembre, il tema cruciale è quello dell'istruzione e del trasporto pubblico. L'Abruzzo chiede che gli alunni tornino sui banchi più tardi, almeno dopo le elezioni del 20 e 21 settembre, così da poter organizzare meglio il ritorno a scuola in sicurezza ed evitare una doppia sanificazione. Innanzitutto vi è il tema dell'edilizia scolastica, su cui i sindacati esprimono perplessità. Sull'edilizia siamo al momento alle promesse degli enti locali. Gli enti locali si dicono fiduciosi di riuscire entro l'inizio delle elezioni, quindi il 14 settembre, di terminare i lavori. Vi è poi il tema dell'aumento di organico, che in Abruzzo è insufficiente e per cui occorrerà aspettare i fondi del decreto agosto, in cui è stanziato un miliardo per l'istruzione. A quanto mi pare c'è stata una prima copertura da parte del governo che non supera un terzo di quello che è stato richiesto. Si parlava di fondi per il personale che dovevano essere circa sui 40-45 milioni di euro per l'Abruzzo, quelle che sono le necessità richieste dalle scuole. Mi sembra che ne siano stati assegnati circa 17, il che è molto molto lontano da quello che effettivamente è necessario. Il tema maggiormente critico però rimane quello del trasporto pubblico. Con le regole attuali, infatti, metà degli studenti rischiano di rimanere a piedi. Se non cambiavano le condizioni date dal comitato tecnico-scientifico della capienza degli autobus, purtroppo il rapporto era quello. E non era un problema economico, perché pur avendo i fondi per poter acquistare autobus, non c'era nessuna azienda a livello mondiale che ti consegnava 700 autobus in 60 giorni. Anche volendone prendere in affitto, quindi anche se si fa un reclutamento esterno rispetto alla struttura, non ci saranno abbastanza autobus per il trasporto scolastico. Chiediamo ovviamente di correre subito ai ripari. Qui i contagi cominciano a risalire. La situazione del CTS manifestata dal comitato tecnico-scientifico a livello nazionale è ancora di una capacità contenitiva al 50%. Sinceramente consideriamo ridicola questa ipotesi del gruppo abituale avanzato dalla ministra ai trasporti De Micheli già nella giornata di ieri. Non si può considerare chi va su un autobus un gruppo abituale. Allora, se fosse così, perché parlare di distanziamento nelle classi? Nelle classi stanno insieme 5-6 ore i ragazzi, in autobus mezz'ora, un'ora.